Ma cavolo, ma mi piace un sacco quello che fa, bravo, ma lui è bellissima questa cosa che fa, mi piace tantissimo quello che fa lui, veramente bella questa cosa che tu fai durante i concerti, se la facessi in un altro momento avrebbe un senso diverso, mi piace molto, davvero, anche l'idea che c'è una portazione, grazie a te, davvero, dopo ci sentiamo, perché dai, assolutamente, grazie molto. Grazie a tutti.